Vi presento Bob, un noto e acclamato sitio che mette a disposizione assieme al suo team lunghe ore di lavoro, una vera risorsa per l'azienda. Ma quello che il povero Bob non sa è che gli hacker stanno prendendo di mira la sua azienda e stanno per compromettere i dati dei profili del suo staff aziendale. In questo modo Bob e suo team si trasformano da risorsa a veicolo dell'attacco. Per imprese di qualsiasi dimensioni, gli hacker sono una minaccia enorme. Possono prendere di mira dipendenti come Bob e ottenere accesso alla vostra azienda. Oppure no, se si dispone di SailPoint. Avendo anni di esperienza e competenza, garantendo la sicurezza di molte delle più grandi aziende al mondo, noi crediamo che l'identità sia sinonimo di sicurezza. La vostra azienda, ad esempio, come ogni impresa, ha dati HR, repositories di utenti, applicazioni email e productivity, applicazioni aziendali, applicazioni sviluppate internamente e applicazioni SaaS. Oltre a queste, la vostra azienda dispone anche di sistemi di archiviazione files on premise e cloud, per l'archiviazione dei dati di clienti e dipendenti. Per non parlare di sistemi SSO, per login automatici. Ecco, tutto questo è coperto da noi. Un dipendente entra a fare parte di un'azienda, avrà un account personale creato manualmente per ciascuno dei servizi dell'azienda. In questo caso, 8, un piccolo numero. Tuttavia, se l'azienda ha qualche migliaia di dipendenti e molte applicazioni, con diversi privilegi all'interno di queste, quel piccolo numero può salire a più di un milione. Noi rendiamo il tutto più semplice, prendendo i dati di ciascuno di sistemi e correllandoli in un identity cube. In questo modo, tutte le informazioni relative al lavoro del dipendente sono messe a sicuro in un unico luogo. E in qualsiasi momento, il capo del dipendente, il revisore ed altri possono controllare i suoi login, l'accesso e così via, garantendo la massima trasparenza. Se il dipendente cambia d'ufficio o viene promosso, è possibile cambiare immediatamente il successo e, se lascia l'azienda, rimuovere completamente i suoi privilegi. In questo modo, avendo ottenuto piena visibilità su tutti i sistemi, gli utenti e i dati, l'automatizzazione sarà facile ed in piena conformità con le normative vigenti. La vostra azienda sarà sicura, perché l'identità è il fulcro della sicurezza. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.sailpoint.com